Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo-commedia romantica perfetta per chi non vede l'ora di vivere un matrimonio da favola in una cittadina di mare, una pazza riunione familiare e un amore estivo indimenticabile, sulle note della musica di Taylor Swift. Il testo affronta temi universali come il dolore per la perdita di una persona cara, l'importanza della famiglia e la possibilità di guarire attraverso nuove esperienze. Ci ricorda che anche dopo un periodo difficile, è possibile trovare la forza per ricominciare e aprirsi all'amore e alla felicità. Una lettura capace di ispirare e far riflettere sulle sfide e le opportunità che la vita ci presenta. La trama del libro L'estate delle regole in frante della scrittrice Chiel Walter, pubblicato dalla casa editrice Sperling e Kapfer, è la conseguente. E se un'avventura estiva ti cambiasse la vita? Dopo la morte di sua sorella, diciotto mesi prima, Meredith ha allontanato tutti, ma con l'arrivo dell'estate è decisa a tornare a vivere. E non c'è niente di meglio per ricominciare che partecipare a un matrimonio estivo a Martha's Vineyard con tutta la sua chiassosa famiglia. Durante il tradizionale gioco dell'assassino, tanto amato dai suoi parenti, Meredith si allea con l'affascinante fratellastro dello sposo e, sebbene voglia vincere la sfida per onorare la sorella, si rende conto che a giudicarsi la partita è importante, ma ancora di più lo è conquistare il cuore del ragazzo che le piace. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.